A me piace molto questo sound, piace tanto perché ci dà energia, poi dopo che ti sei fatto uno spritz Ma che cosa lo spritz? Ma che lo spritz? Non dia informazioni sbagliate a chi ci ascolta Allora è arrivato, oggi l'abbiamo detto, vi piace puntata ricca di ospite Beh è molto movimentata, è vero Molto movimentata, però va bene così perché noi siamo così up Quindi abbiamo un altro collegamento con una cantante, cantautrice anzi meglio Brava, brava Ringraziamo per questo sempre Alessandra Placidi Grazie Alessandra per realizzarci questi collegamenti sempre molto belli Molto belli, è in collegamento con noi Elisabetta Gagliardi Buongiorno Elisabetta Buongiorno a tutti, come state? Ciao, tutto bene Tu dove sei? In paradiso? No dai, ma che sta a dire perché dietro è un po' Tornice particolare Assolutamente, ovviamente non è casa mia perché non riesco mai ad essere in casa quando succedono queste cose Però insomma ci siamo, ci siamo Senti Elisabetta, allora io subito, ma tu abiti a New York? Eh magari, no no no, io abito nella provincia di Alessandria Però in questo momento mi trovo a Salerno per lavoro e ho scritto un brano che parla di New York Ma diciamo, è tutto molto ordinato, è tutto molto chiaro E quando vai in vacanza dove vai? Ma se riesco vengo dalle vostre parti Così ti vieni qui in studio, è vero, non sarebbe male Allora, parlaci di questo singolo che è uscito il 22 aprile nel centro di New York Da quello che sappiamo è, diciamo, autobiografico Ahia, perché qui leggevamo che si parla di amore, questi amori un po' forti Le delusioni, bisogna rinascere, le sofferenze Perché nel centro di New York? Perché è accaduto al centro di New York? Sulla scala? Lì a Manhattan? Eh, diciamo, una cosa del genere, nel senso che durante un viaggio che ho fatto appunto verso New York Quindi dalla provincia di Alessandria verso New York Ricordo questi palazzi, questi grattacieli enormi che tu li guardi sempre dal basso Che meraviglia, vero? Sono infiniti, no? Sì, rimani così, a bocca aperta perché è straordinario, è vero Esattamente, mi sono chiesto quanto potesse costare un appartamento nel centro di New York Mamma mia Quello poi è diventato una sorta di gancio per il brano Nel momento in cui sono ritornata nella mia città ad Alessandria E al termine di una storia d'amore che per me è stata importante Ho cercato, diciamo, di quantificare questo amore che era evaporato ed era infinito Al costo di questo ipotetico appartamento che tutt'oggi non so quanto possa costare Quindi ricordo che ho paragonato appunto queste due Un sentimento ad un prezzo smisurato E ne è nata questa canzone Quindi tu hai dato un valore all'amore? Bravo, ho dato un valore però non quantificabile Ah, quindi un appartamento a New York è quasi non quantificabile quindi? Sì, secondo me sì, non saprei Però curiosa come associazione, nel senso che Sarà sicuramente fumata qualcosa, io credo No, nel senso che tra l'altro è uscito un brano che noi abbiamo ascoltato Prima della direzione Sì, ma non dica cose È bello Fra osprizze mio e gente che fuma Insomma sembra una comunità di recupero Però non è questo evidentemente È un centro d'accoglienza Questo ti piace Certo, ma perché a te che Perché tu non so se lo sai Elisabetta Ma noi qui nel territorio laziale andiamo in onda su FM 104 E quindi è perfetto per noi E come tu saprai è la legge quella da 104 Per chi deve supportare gente con difficoltà E io ce l'ho accanto E cerco di aiutarlo tutti i giorni Io ti ringrazio È solidarietà, solidarietà È certo Senti, noi direi, visto che ne abbiamo parlato Ce lo ascoltiamo Ce lo ascoltiamo È molto bello, davvero A parte gli scherzi E quindi vorremmo così consigliarlo a tutti i nostri ascoltatori Certo, tu rimani con noi Così poi dopo ne parliamo Vai Brava Brava Elisabetta Brava Elisabetta Però mi ha colpito Se potessi vendere il mio amore vivrei in un attico È quello là Il sunto sta tutto lì Esatto Esatto Bravissimi, bravissimi Complimenti Grazie ragazzi Grazie Però io a questo punto ti devo fare una domanda Perché noi abbiamo letto Sei uno stronzo No, 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 quello Delicatissima No, 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 quello Come direbbero i commentatori sportivi L'ha toccata piano Sì, è una principessa Ma no, no, evidentemente ne aveva le ragioni No, io ti volevo fare questa domanda Perché durante il brano Tu dici Mi mancavi Mi mancavi Ma non te l'ho detto Allora Essere orgogliosi è giusto fino a un certo punto Cioè nel senso Noi siamo orgogliosi Ma in questo caso tu lo sei stata Perché non gliel'hai detto Sì Nel senso C'è quel sentimento Dopo un po' ti viene Ovviamente le cose poi si acquietano I tasselli rientrano al loro posto No, riesci veramente a mettere questo pezzettino del puzzle E a completare tutto il tuo quadro E ad un certo punto dici Ma perché portare rancore Perché portare un macigno sullo stomaco Chiamiamole le persone a distanza di tempo No, è vero che l'amore E' vero finisce Ma può rimanere comunque un rapporto pacifico tra due persone Io in questo ci credo E con il tuo ex amore è rimasto questo rapporto pacifico? Sì, 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 sì Ce l'abbiamo fatta Infatti leggo e sono evidentemente tue dichiarazioni Ci vuole coraggio ad accettare un dolore Ci vuole coraggio ad arrendersi E fare pace con la parola fine Eh sì Perché per chi è un appassionato dell'amore come me Nel senso Io sono veramente una fan dell'amore Se trovo l'uomo giusto Io non lo lascerei mai E non lo tradirei mai No, nel senso Ebbè, è giusto che sia così È giusto che sia così Per questo hai il verde Verde speranza che sia così Sai, tante volte vedi Tu adesso hai detto Lo dico con molto rispetto Hai detto una Tra virgolette Non una banalità Una cosa che è la normalità Però la diciamo E sottolineiamo questa cosa Perché siamo in un'epoca In cui questo ragionamento qua Non esiste Sembra extraterrestre Cioè, credo nell'amore Rispetto l'amore Sono fedele Non lo tradisco E rimarrei con quella persona per la vita Sembra chissà che cosa uno abbia detto In realtà Dovrebbe essere così Assolutamente Dovrebbe essere così E quindi bisogna Io ho sempre lottato fino alla fine Per cercare appunto Di far sì che le cose Vadano nel verso giusto Esattamente Poi ovviamente ti accorgi ad un certo punto Che quella cosa non può più funzionare E diventa una sorta di malessere Un po' per tutti E quindi è lì che bisogna avere coraggio Di dire Va bene La parola fine esiste E bisogna saperla utilizzare Nel momento giusto E così è stato Ed è vero E per questo ci vuole Ci vuole molto coraggio Senti Elisabetta A parte Questo singolo Ma magari qualche appuntamento Qualche live Esatto Sì, allora Abbiamo fatto qualche live In provincia di Verso la Liguria Quindi Genova E cose varie I prossimi saranno Nella provincia di Alessandria E saranno alcuni eventi privati Stiamo pianificando invece Il nostro calendario Poi per l'estivo Che vi farò sapere a breve Come no Con grande piacere Con grande piacere Poi se ti capita di venire a Roma Noi ti aspettiamo qui in studio Certo Certo Portieri Assolutamente Anche perché ricordiamo È di strada Anche perché con Alessandra Placidi Ormai Ricordiamo La salutiamo Ormai Noi Elisabetta Noi ti auguriamo Buon estate Buon lavoro In bocca al lupo Per tutto Aspetta Manine Manine Come sempre Merda 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 Perché noi facciamo Bisogna farlo Ce n'è bisogno di tanta 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 Grazie Elisabetta Un bocca al lupo per tutto Un bacio grande Buona giornata Ragazzi A presto A presto Ciao Ciao